Adesso sono un po' forse la persona non giusta di introdurlo perché mi viene un po' il sentimento perché posso introdurlo Marco Domini e mio figlio Giosuè che suonano insieme. Marco Domini è professore di violino a Santa Cecilia e Giosuè poteva essere insegnato da lui da quasi dieci anni. Il tema del Schindler List di John Williams che rappresentato rappresenta veramente una grossa sia qualitativamente come composizione il film la storia una cosa veramente bella tra l'altro come fine è stata eseguita da Isaac Perma che è uno dei più grandi violinisti della storia del violino perciò è stato veramente un capolavoro. Noi facciamo una riduzione per due violinisti. Grazie. 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 Grazie.